Purtroppo si dice bene, buongiorno a tutti, come ricordavo io ho 26 anni e sono un precario del settore bancario, sono precario di una banca, di un'azienda che ha distribuito 94 milioni di utili agli azionisti nell'ultimo esercizio e dopo tre anni di servizio sono tre mesi e mezzo di cui non ho notizie circa il mio futuro. Ecco adesso io sono anche un tesserato della Fisac CGL, so che stanno spendendo energie per il fondo per l'occupazione ma a tutt'oggi stiamo aspettando appunto notizie sul nostro futuro perché siamo diversi nell'azienda in queste condizioni. Io comunque ringrazio per le energie che il sindacato spende per noi. Ho un'altra esperienza da portare, l'esperienza di segretario di circolo perché comunque i disagi che ho trovato nel mondo del lavoro mi hanno portato a approfondire la mia passione per la politica e ad impegnarmi per il Partito Democratico per il quale faccio segretario di circolo in un comune di 6.500 persone. Ecco per questa duplice esperienza mi sento oggi obbligato, mi sento in obbligo di portare qui un contributo, di portare un'esperienza, di portare la voce della mia gente, della gente comune, della base che vive i circoli, del mio territorio, delle Marche, della provincia di Pesaro Urbino che nonostante sia una delle province produttive d'Italia non esce esente da questa feroce crisi economica che tutti conosciamo bene quindi continuiamo a perdere anche noi progressivamente occupazione e continuiamo a precarizzare il lavoro. Ecco proprio per questo mi sento in obbligo di voler portare la voce del territorio. Di recente nel mio circolo la scorsa settimana abbiamo organizzato la festa del tesseramento e quindi è stata un'occasione per il Partito Democratico, per le persone iscritte di incontrarci, di chiacchierare e nei parlottamenti che si fanno solitamente in queste occasioni mi è parso che dalle 120 persone che erano lì presenti uscisse da tutte le stesse domande, gli stessi dubbi. Cioè la domanda fondamentale era quella ma quanto dura sta situazione? Quanto dura sta crisi? E cosa fa il Partito Democratico? Cosa stiamo facendo per migliorare? Beh per un segretario di circolo trovarsi di fronte a queste affermazioni di fronte ai propri iscritti insomma lascia un po' apparire, lascia prendere la considerazione che la politica sia vista anche addirittura all'interno della nostra base come un magma indefinito all'interno del quale è difficile tracciare le linee di demarcazione fra quello che è il governo e quelli che sono i diversi partiti presenti in Parlamento e che sostengono il governo. E questo è quanto sicuramente di più dannoso ci possa succedere perché penso che oggi abbiamo dato ampia dimostrazione di quanto la linea del Partito Democratico soprattutto sui temi del lavoro sia totalmente divergente da quella del governo, dell'esecutivo in carica. E chiaramente essendo sempre a contatto con la base posso esprimere un giudizio di quello che è il sentore delle persone nei confronti di questo esecutivo che è di insofferenza ma non potrebbe essere altrimenti perché quale sentimento ci potrebbe essere nei confronti di un governo che ha usato le parole equità, le parole di sviluppo solo al momento del suo insediamento per poi chiuderle in soffitto e lasciarle lì dimenticate. Come potrebbe essere la percezione delle persone nei confronti di un ministro deputato al lavoro che usa più spesso le parole licenziamenti che nel sviluppo e occupazione? Non potrebbe essere altrimenti. Quindi penso che sia fondamentale che il Partito Democratico come oggi fa emergere la sua linea totalmente alternativa a quella del governo Monti si impegni per dare anche un seguito attivo, insomma un seguito di impegno serio e di leggi e di proposte perché chiaramente ci sono tanti cittadini che del leale sostegno al governo Monti seppure critico non sanno dove metterselo, non se ne fanno proprio un bel niente del leale sostegno al governo Monti e questa è la voce dei nostri cittadini, è la voce dei giovani soprattutto che mi sento qui di rappresentare che ci chiedono soprattutto due cose, ci chiedono lavoro e diritti e ci chiedono quindi un impegno perché possiamo mettere in atto quegli investimenti che siano in grado di creare nuovi posti di lavoro che si possa allentare la rigidità che adesso caratterizza l'accesso alle professioni che prima l'ha detto Damiano magistralmente che ci sia una politica industriale che ci faccia capire veramente qual è il ruolo dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro cosa deve fare un giovane italiano se si vuole buttare nel mondo del lavoro non sappiamo più cosa fare e chiaramente chiediamo diritti perché il lavoro va bene ma le condizioni in cui ci hanno fatto lavorare in questi ultimi anni non ci vanno bene perché il lavoro recuperi la sua dignità la dignità che merita affinché non si finisca nuovamente nelle tenaglie della flessibilità ad ore ad orologeria che il lavoro flessibile costi veramente in più qualcosa per l'azienda costi veramente ma che non questo costo venga poi scaricato sul lavoratore perché a quel punto si perde proprio la ragione del provvedimento e dell'idea che stiamo portando avanti fin dalla scorsa conferenza del lavoro quando dicevamo per il lavoro flessibile deve costare di più del lavoro tipico del lavoro a tempo determinato e un ultimo passaggio che ci sia anche un impegno nel trovare quelle risorse per finanziare gli ammortizzatori sociali per tutti che riguardino anche quelle forme di lavoro precario perché sappiamo bene che il welfare state dei lavoratori precari ad oggi è costituito per chi ce l'ha dalla famiglia per chi non ce l'ha dalla carita se quant'altro viene dopo perché non sanno chi rivolgere è un ragazzo che si vuole fare un futuro un ragazzo di 30 anni che non ha incontrato tempo determinato comunque a un certo punto sente la necessità di darsi un futuro e quindi di poter un minuto e arrivo penso che le risorse per questo si possono trovare e spetta la politica capire dove penso che per il profilo del nostro partito io consiglierei di dare un occhio a quelle che sono le statistiche sulla disuguaglianza della distribuzione del reddito magari potremmo trovare un'idea per dove trovare le risorse per finanziare quanto detto se per ovvi motivi poi questo non sarà fattibile in questa legislatura dobbiamo prepararci perché arriveremo a vicine elezioni quindi il tempo delle analisi io credo che possa definirsi concluso è il momento dell'azione è il momento dei programmi di quello che ci chiedono che ci chiedono i cittadini ma i programmi e le parole non bastano perché i cittadini ci chiedono questo ci chiedono di potersi affidare ad un gruppo dirigente serio e responsabile un gruppo che sia un gruppo dirigente una classe dirigente che sia credibile ed affidabile che sappia fare delle proposte tradurle in progetti e leggi quindi io voglio fare un appello a tutti i dirigenti del Partito Democratico e con questo chiudo se ci torniamo a dividere sui temi che sono ad esempio le unioni civili o la legge elettorale dopo le prossime consultazioni elettorali non faremo nient'altro che misurare nuovamente la nostra distanza da quello che i cittadini necessitano quindi ecco voglio fare un appello finché veramente si trovi un'unità del partito e si possano portare avanti seriamente le proposte sul lavoro vi ringrazio per l'attenzione grazie